Il 6 e il 7 maggio prossimi si terrà a Monopoli il Spring Lights Festival, il suggestivo progetto di videomapping narrativo-decorativo. Sono due i luoghi della città impreziositi dall'evento, corso Pintormameli e la muraglia sul mare in area Portavecchia. Scopriamo di più nel servizio. L'ultimo degli appuntamenti di Spring Lights Festival si terrà il 6 e il 7 maggio a Monopoli. Si tratta del progetto di videomapping narrativo-decorativo, una tecnica di proiezione evoluta che trasforma qualsiasi superficie in un display dinamico, sul quale visualizzare animazioni, immagini, video e giochi di luce. Per l'occasione corso Pintormameli e la muraglia sul mare in area Portavecchia saranno le location che ospiteranno l'iniziativa. In corso Pintormameli sarà possibile rivivere i colori e i suoni della festa e degli elementi rappresentativi della fede che appartengono alla vita monopolitana, dalle tradizioni locali agli affreschi presenti nelle grotte rupestri. Sulla muraglia in area Portavecchia invece si potranno ammirare le testimonianze artistiche custodite nel Museo di Ocesano. Inoltre sarà possibile ascoltare alcune note della storia della città incentrate sul tema del mare. Anche quest'anno la direzione artistica del progetto promosso dall'assessorato al turismo di Monopoli è firmata da Antonio Minelli. Abbiamo Mameli dove raccontiamo le tradizioni, quelle che sono le feste, che sono tante, legate alle fedi religiose, legate alle feste patronali. Invece in Portavecchia abbiamo un taglio dove partiamo appunto dai quadri del Museo di Ocesano per arrivare a costruzioni, edifici che sono state fatte nel tempo, come ville e torri di avvistamento, finendo con una chiave molto contemporanea, musica molto, con un target molto giovanile, con un messaggio che appunto tiene in connessione il passato col presente e soprattutto proiettato verso il futuro. Le proiezioni nelle due zone interessate si terranno in contemporanea dalle ore 21 alle ore 24.